Viale della pace, ma di pace ce n'è poca in un'abitazione. Urle strepiti e in corso un violento litigio tra due fidanzati. Qualcuno chiama il 113, la polizia arriva sul posto con una pattuglia delle volanti, gli agenti entrano nella palazzina, notano due giovani, stanno discutendo vivacemente, ma quando si accorgono di non essere più soli, scaricano la loro aggressività sui due poliziotti, minacciandoli e insultandoli, ma non solo. La donna arriva a mordere una gamba a un agente, che finisce al pronto soccorso. Nonostante la situazione sia grave, i poliziotti bloccano i due aggressori e li portano in questura per accertamenti. Qui i due fidanzati, lui 33 anni e lei 23, vengono dichiarati in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per lesioni aggravate. In attesa dell'udienza di convalida, l'uomo e la donna sono stati portati nelle case circondariali, uno di Vicenza, l'altra di Montorio Veronese.